Io prima lavoravo in un fondo di venture capital in InnoGest, uno dei principali in Italia. Quello che avevamo notato è stata la digitalizzazione del pezzo di filiera che collega il ristoratore al consumatore finale. Quindi i vari player che tutti noi conosciamo, Just Eat, Deliveroo, Foodora, che negli ultimi 4-5 anni quasi tutti sono andati in IPO, quindi c'è stato un investimento di 3 billion worldwide che ha portato appunto velocissimamente questi player a diventare società che tutt'oggi noi abbiamo su cellulare conosciamo. Abbiamo visto che nell'ultimo anno, anno e mezzo, le stesse dinamiche si stavano presentando nel pezzo prima della filiera, ovvero quello che connette il produttore al ristoratore, ovvero un mercato tanto grande quanto quello dal ristoratore al consumatore finale e ancora diciamo all'età della pietra, ovvero dove la disruption non era ancora arrivata, dove ancora tutti gli ordini avvengono con messaggi, telefonate, chiamate o toccato con mano. Qualcuno di questi ancora con fax, mi sta ancora con il fax. e quindi vedendo che un po' in tutto il mondo stanno arrivando gli stessi investimenti, visto il pezzo prima della filiera in questo, abbiamo deciso di rifondare Deliveroo, ovvero ci siamo licenziati io e un collega con l'obiettivo di costruire il player innanzitutto italiano, ma poi che punta anche l'Europa, perché al momento a parte la Cina con Makai, l'India con Ninja Car, Granmarca negli Stati Uniti, Blue Car negli Stati Uniti, al momento in Europa c'è soltanto Recchi e Londra e sta nascendo un player che si chiama Ciocco tra Berlino e San Francisco, quindi ancora un mercato molto molto vergine e bisogna arrivare per primi e noi pensiamo che insomma abbiamo le caratteristiche per poterlo fare, l'Italia può giocare un ruolo importante.